In attesa che la Procura cominci ad indagare per accertare eventuali ipotesi di manomissioni, così come denunciato dal direttore generale dell'Astra di Brindisi, Paola Cianamea, il problema degli ascensori in tilta all'ospedale Perrino finisce all'esame della direzione amministrativa, chiamata a deliberare sul preventivo degli oltre 150.000 euro presentato da Lacone. L'azienda è incaricata per conto della società appaltante del servizio, la Manutencop, alla riparazione urgente degli elevatori, a stabilire un dato certo, manomissione o no, 4 degli 8 ascensori del nosocomio Brindisino sono irrimediabilmente rotti e per farli nuovamente funzionare bisogna intervenire sostituendo pezzi ormai andati. La soluzione ideale sarebbe la completa sostituzione degli ascensori, data la vetustà dell'impianto, ma in questo caso il costo lieviterebbe ulteriormente, arrivando a 400.000 euro, 100.000 per ognuno dei quattro elevatori non funzionanti. Quello su cui si interverrà con urgenza sarà il D3 che conduce nella sala operatoria e che ha provocato non pochi disagi e polemiche in questi giorni di fine anno. Il costo dell'intervento di riparazione coserà 54.000 euro. Ad essere stato già attivato invece è il servizio di vigilanza disposto dall'Aslan e i pressi degli ascensori controllati da una guardia giurata, mentre si allungano i tempi per la realizzazione dell'annunciato sistema di sorveglianza adottato non appena sarà ricostituito un pool di figure tecniche.